con il numero 57 marco sportiello con il numero 3 cristiano del grosso con il numero 10 aleandro dario con il numero 11 maximiliano morales con il numero 13 andrea con il numero 16 daniele vaselli con il numero 21 luca cigarini con il numero 22 davide zappacosta con il numero 29 joan penaloan con il numero 95 alberto grassi con il numero 99 gli adam richmond bocini il nostro mister è di regna con il numero 12